Sono molto contenta del nostro successo, penso che ce lo siamo meritati e penso che forse si comincia a capire il valore della nostra lista civica verdi che è interetnica, dove italiani e tedeschi, e io mi sento emozionata a dirlo, dove italiani e tedeschi si sta a fianco per parlare di questioni politico, sociali, si sta a fianco a prescindere da che gruppo si è e trovo che questo sia di un'emozione unica, che possa dare veramente una grande emozione. Mi sento un po' deluso, avevamo tanti buoni propositi e spero che nel prossimo abrivo possiamo dare tutte le immagini positive per gli italiani anche. Mi sento un po' di spazio, ma credo che ci sono ancora un po' di spazio. In 5 anni facciamo questo tutto perfetto. Una gioia, contentissimo perché è stata una grandissima sorpresa per me, positivo, però questo per me è un sogno perché anche per Merano è un inizio di cambiamento, positivo, e spero che riusciamo a farlo capire alla gente che si può vivere tranquilli, tedeschi, italiani, altri, tranquilli. È importante valutare l'uomo e quello che conta e speriamo di riuscire a far capire la gente di Merano. Il mio sentimento? Ringrazio Dio che esiste una persona come te. Ho appena conosciuto tua moglie e ho detto finalmente è arrivata una persona che porta un'aria buona, un'aria diversa nel comune di Merano. Aspettavo da tanti anni questo. Sono entusiasta di questo risultato, è incredibile. È la prima volta che i Verdi arrivano a questi risultati, soprattutto così vicini all'SVP. Non ho parole, sono contentissimo. Una cosa quasi insperata. Adesso invece ci siamo arrivati, piano piano, ma ci siamo arrivati. Allora, come ho ho sentito, ho sentito, ho sentito molto molto, ma è un'ottima, è un'ottima, è un'ottima, ma è un'ottima, è un'ottima. È un'ottima, è un'ottima che a tutti ieri, è un'ottima che sono molto felice. Sono contentissima per il risultato della lista. Sono veramente felicissima. Più dispiaciuta per il mio risultato, perché è assurdo dire di no, perché contavo di continuare il lavoro che avevamo iniziato. Però adesso spero veramente che Paul Reich diventi sindaco. Con lui sarà facile continuare ad occuparsi di quello che abbiamo fatto prima. Ma dentro, fuori consiglio, poca differenza c'è, perché possiamo fare un bel lavoro anche fuori, con Paul. Adesso ho la grande speranza che Paolo ce la faccia. E questo da parte mia è tutto il mio aiuto, tutta la mia buona volontà. Paolo ce lo deve fare. Ce lo faremo. Grazie. Dentro, fuori consiglio, sarà sempre comunque un bel lavoro. Questo lo auguro. Ottimo, grazie. Paolo, all'esporta. Sono contentissimo. Sono contentissimo perché sono col sindaco, che mi vuole bene, che facciamo un bel gruppo e che si va a fare un bel ballottaggio. Ottimo, grazie. Che era ora. Che era ora. Io sono verde, ho sempre votato verde da quando ero ragazzo. È un risultato così, è un po' come nello sport, insomma. Alla fine passano anni in cui, sì, ottieni risultati, ti diverti a fare le cose che fai, però magari il successo pieno non arriva e quando arriva tutti gli anni passati diventano il motivo per cui sei contento adesso. Sono stato molto contento che finalmente si avvicini alla possibilità concreta di avere Paolo Resch come sindaco. Bellissimo. Cosa è successo dentro di te? Beh, ho pensato che qui finalmente cambia qualcosa. Almerano diventa una città più vivibile, più allegra, a misura d'uomo. Ottimo, grazie. Ma io non ci ho creduto. È qualcosa di fantastico, un bellissimo risultato e te lo sei meritato, Paolo, perché hai lavorato molto molto bene. Siamo stati bravi tutti e continuiamo su questa strada. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.